Come investire nonostante l'incertezza per il futuro e la crisi economica? Questo è il tema del forum organizzato ieri sera a Napoli dalla società finanziaria newyorkese JP Morgan in collaborazione con il Corriere Economia, un'iniziativa itinerante partita l'8 maggio da Bergamo che si è conclusa nel capologo campano. Tanti gli ospiti intervenuti ai lavori che si sono concentrati soprattutto sul potere d'acquisto degli italiani, il calo dei consumi e il reddito medio delle famiglie italiane. Presente al dibattito Antonio De Matteis, amministratore delegato della società che controlla la Grif Keaton. La nostra ricetta è stata quella di investire in noi stessi come ho detto prima, credere in quello che si fa, mettersi in discussione nei momenti di crisi perché solo così si può uscire dalle crisi e rinascere più forti di prima.